Nell'istante della catastrofe così spaventosa che non si può immaginare perché supera i confini della fantasia umana, Messina all'improvviso aveva preso l'aspetto di una burasca di case, di una città rasa al suolo. Nascerà un'altra città, quella che ho impressa nella memoria, non è più che un sogno. Non è che una visione scomparsa, non ha più solidità di un delirio, è finita per sempre. Grazie a tutti i nostri spettatori,